Ci sono diverse curiosità, magari fini a se stesse, ma che rendono l'idea dell'ottimo lavoro svolto finora da tecnico e squadra nelle prime dieci giornate dal campionato 1973-74, l'undici di Alberto Colombo per punti fatti e secondo solo al Pescara di Ivo Iaconi, che esattamente 20 anni fa, stagione 2002-2003, riuscì a conquistare 24 punti, uno in più dell'undici attuale. Altra particolarità, all'epoca il vice di Saul Santarelli era Luca Aprile, che dallo scorso anno è il preparatore dei portieri del Delfino. Al termine di quel campionato, dopo gli avvincenti esaltanti spareggi contro San Benedettese Martina Franca, fu promozione in Serie B. Altra curiosità, dopo dieci giornate sono 19 i gol realizzati dal Pescara di Alberto Colombo. Negli ultimi 50 campionati ha fatto meglio con 23 reti, solo il Pescara di Zeman 2011-2012. Sei i gol subiti, seconda migliore difesa del girone, al pari del Crotone. Appena due in più negli ultimi 50 anni del Pescara di Angelillo, Serie B 1978-79, e di Carletto Mazzone, Serie B 1990-91. Squadre capaci di subire solo quattro reti nei primi dieci turni di campionato. Con cinque gol incassati, uno in meno della squadra attuale, il Pescara di Tom Rosati, Serie C 1973-74, e il Pescara di Ivo Iaconi, Serie C 2001-2002. Insomma, organizzazione, solidità, ma anche idee e soluzioni offensive.